Oggi per la famiglia Facchinetti è festa grande, così Roby Facchinetti, musicista e voce dei Poo, ha esordito su social per condividere la gioia per le nozze del figlio Roberto con la storica compagna Mayra, Celebrate oggi, sabato 23 settembre 2023 Roberto e Mayra, dopo 13 anni di convivenza si sono felicemente sposati, si legge a corredo del post con le foto degli sposi, raggianti ed elegantissimi tra parenti e amici Tra loro, naturalmente, Francesco Facchinetti, fratello dello sposo, che ha documentato l'evento sui social, prima con un video che raccontava il suo loop, total white scelto proprio per omaggiare gli sposi, poi con un altro che ha mostrato l'arrivo della sposa e, infine, parte del rico civile che ha suggelato il legame tra Roberto e la cognata Mayra Roberto Facchinetti è il quarto dei cinque figli di Roby Facchinetti, nato nel 1987 dall'amore per la moglie Giovanna Lorenzi da cui ha avuto anche figlio, arrivata quattro anni dopo Il musicista Alan Agrafe Camillo Lorenzo Ferdinando, è anche padre di Alessandra e Valentina, nate dal primo matrimonio con Mirella Costa, e di Francesco, appunto, figlio della ex compagna Rosaria Longoni Document.Rai? Faccina triste, il tuo browser non può riprodurre il video Devi disattivare a block per riprodurre il video Play replay, play replay, pausa, disattiva audio, disattiva audio, disattiva audio, attiva audio, indietro di 10 secondi, avanti di 10 secondi, spot, attiva schermo intero, disattiva schermo intero, skip, il video non può essere riprodotto, riprova più tardi Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato JavaScript Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato JavaScript Devi attivare JavaScript per riprodurre il video Window.Sottolineatura Document.Rai? Faccina triste, window.Sottolineatura Document.Rai? Faccina triste, il tuo browser non può riprodurre il video Devi disattivare a block per riprodurre il video Play replay, play replay, pausa, disattiva audio, disattiva audio, disattiva audio, attiva audio, indietro di 10 secondi, avanti di 10 secondi, spot, attiva schermo intero, disattiva schermo intero, skip, il video non può essere riprodotto, riprova più tardi Attendo solo un istante, dopo che avrai attivato JavaScript Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato JavaScript Devi attivare JavaScript per riprodurre il video Window.Sottolineatura Document.Rai? Faccina triste, window.Sottolineatura Document.Rai? Faccina triste, il tuo browser non può riprodurre il video Devi disattivare a block per riprodurre il video Play replay, play replay, pausa, disattiva audio, disattiva audio, disattiva audio, attiva audio, indietro di 10 secondi, avanti di 10 secondi, spot, attiva schermo intero, disattiva schermo intero, skip, il video non può essere riprodotto, riprova più tardi Attendo solo un istante, dopo che avrai attivato JavaScript Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato JavaScript Deve attivare JavaScript per riprodurre il video Window.Sottolineatura Document.Rai? Faccina triste, window.Sottolineatura